È una casa dei bellunesi, per andarci a teatro, per ascoltare la musica lirica, per incontrare i protagonisti dell'attualità, per premiare ogni anno chi ha saputo dare l'esempio. È il teatro, ancora per poco, solo comunale. Il teatro che oggi si chiama comunale e un tempo sociale, nelle intenzioni dell'amministrazione, concrete ormai perché c'è un provvedimento di giunta a riguardo, verrà intitolato nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, a uno dei figli più allustri della città di Belluno, cioè Dino Buzzati. Dino Buzzati nacque il 16 ottobre 1906 a San Pellegrino di Belluno, dove c'è ancora la sua casa, e morì il 28 gennaio 1972. Scrittore, giornalista, pittore, drammaturgo, librettista, scenografo, costumista e poeta, ricordato un po' ovunque in questo anniversario. È stato un artista con la maiuscola molto poliedrico, scrittore, pittore, esperto anche di teatro, ha scritto dei testi di teatro. Ci sembrava giusto e doveroso, a coronamento di tutte le manifestazioni svolte quest'anno per i 50 anni dalla scomparsa di questo nostro, ripeto, figlio illustre, dare l'intitolazione, su stimolo dell'Associazione Internazionale Dino Buzzati di Feltre, dare l'intitolazione del teatro comunale, che è la casa delle arti della nostra città, a uno degli uomini che più si è distinto, non solo in Italia, a livello artistico, in maniera, ripeto, molto poliedrica, sfaccettata, e quindi ha anche un valore simbolico, se vogliamo, ovviamente culturale, ma anche turistico, come sicuro richiamo di un teatro della prima metà del XIX secolo. Grazie.